Dottor Mancini, il personale è rientrato dalle ferie ma soprattutto, dicevamo prima, molti si sono presentati spontaneamente al lavoro, parliamo di medici, infermieri, ausiliari. Tutti si sono presentati spontaneamente al lavoro questa mattina e hanno dato la loro disponibilità. Purtroppo noi siamo abituati a questo tipo di emergenze, è un po' la vocazione di questo ospedale e l'ospedale sta rispondendo al meglio. Devo anche dire che la popolazione si è dimostrata generosa, c'è una fila di 80 donatori di sangue presso il centro trasfusionale. Questo ci conforta, speriamo di non averne bisogno. Come diceva il direttore sanitario abbiamo bloccato le attività operatorie di routine per lasciare le sale operatorie libere qualora ve ne fosse la necessità. Ho visitato appena adesso il pronto soccorso, tutto per il momento è in ordine. Aspettiamo purtroppo una piena nel pomeriggio. Questa emergenza, dottor Mancini, durerà ovviamente anche per i prossimi giorni? Sappiamo bene che i sismi non si prevedono, quindi se tutto rimane così, questa emergenza nel giro di qualche giorno si esaurirà. Anche perché Pescara è un bacino di riferimento, ma il bacino di riferimento principale è nel Lazio. Quindi noi siamo stati chiamati come supporto proprio all'ospedale di Pescara, l'asile di Pescara. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.